Gli incendi nei boschi della Toscana hanno vita breve nell'80% dei casi, infatti, le fiamme vengono fermate prima che raggiungano un ettaro di terreno. Questo grazie al lavoro dell'Aiba, antincendi boschivi e dalla preparazione del suo personale, formato al centro, la pineta di Tocchia, Monticiano, unico in Italia, che compie i suoi primi dieci anni. Per questo è stata organizzata una giornata per discutere sulla difesa dei nostri boschi, dove ha partecipato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi e nove regioni italiane interessate al modello toscano dell'antincendio boschivo. Per l'assessore regionale Remaschi bisogna investire di più nella prevenzione e insegnare ai cittadini le buone regole per evitare gli incendi. Il non rispetto di queste regole provoca sicuramente danni. Anche l'aspetto dei comuni, delle polizie comunali, sono importanti perché l'educazione di ogni singolo cittadino e i comportamenti di ogni singolo cittadino possono aiutarci a migliorare questo patrimonio forestale di cui la Toscana sicuramente è orgogliosa. Nei primi tre mesi di quest'anno si sono sviluppati sul territorio toscano 113 incendi boschivi che hanno interessato una superficie di circa 173 ettari, molti di questi dovuti agli abbruciamenti. Ma quali sono le regole che devono seguire i cittadini per evitare i roghi? Cultura su come bruciare, in termini di abbruciamenti chiaramente di residui vegetali, ma anche e soprattutto su quando non farlo, su come non farlo e su come attuare buone pratiche affinché il territorio sia gestito e quindi con minore rischio di incendi boschivi. Il centro antincendi, unico nel suo genere, è composto da tre aule didattiche, una di informatica, ci sono anche 35 posti letto, una mensa, un eliporto, un chilometro di strade forestali e ostacoli per i corsi di guida. Nel centro ogni anno vengono formati 1300 operatori e la Toscana mette in campo per prevenire e fermare gli incendi 4700 uomini. In mezzo a disposizione dell'antincendi boschivi sono 600 più 10 elicotteri. Grazie a tutti.